Il catanese Michele Puglisi ha vinto il tredicesimo autoslalom città dei musei di Chiaramonte Gulfi, gara deputata ad assegnare punti utili per il campionato siciliano della specialità e per lo challenge Palichè 2019, che è messa organizzata dal team Palichè di Cirrito. Al volante della Radical Pro Sport Suzuki, il neocampione italiano slalom under 23 e portacolori della scuderia TM Racing Messina, ha preceduto il messinese Emanuele Schillace sul Radical SR4 Suzuki Gommata Pirelli, anch'essa schierata dalla scuderia TM Racing. A salire sul terzo gradino del podio è stato il ventenne di Melilli Luigi Fazzino, suo sello Suzuki 1.6, un podio molto giovane. 156 i piloti al via, tra questi quattro i piloti saccensi. Questi i loro risultati, attraverso le foto di Manuel Marino. Tra le vetture monoposto motore-moto ha gareggiato Antonino Di Matteo su Formula Gloria C8F Evo, curata dal team Castiglione Motorsport e da Vincenzo Noto. Di Matteo ha portato a casa la sesta posizione assoluta, a pochi decimi dalla top 5, risultato che non è riuscito a centrare a causa di alcune noi al cambio, che lo hanno penalizzato in gara 2 e gara 3. Ottima prestazione, in ogni caso, che lo conferma ancora una volta tra i primi in classifica generale. Per quanto riguarda la classe E2 SS 1.6, Di Matteo si è imposto al comando della classe E2 di gruppo. Il saccense si è già laureato per il 2019 campione siciliano slalom nella sua classe di appartenenza. Buona prestazione pure per Gaspare e Gennaro su Fiat 500, curata dal padre. Gennaro ha ottenuto un buon tredicesimo posto in classifica assoluta. Gara dopo gara sta riuscendo sempre di più a prendere il giusto feeling con la vettura e i risultati confortanti confermano questo trend positivo. Nel gruppo N, ottima performance per Ignazio Bonavires, a bordo della sua Peggio 106, curata da Patacco Corse. Bonavires ha centrato la prima posizione di gruppo e di classe, portando a casa anche la vittoria del campionato siciliano slalom. Bonavires dunque, che anno dopo anno si conferma tra i migliori nel panorama regionale. Tra le vetture Racing Start al primo posto di classe e quarto di gruppo, Lorenzo Bonavires sul Renault Clio, curata anch'essa dal team Patacco. Ottima gara per il piloto Saccense, che ha staccato un crono di tutto il rispetto. Il prossimo fine settimana è prevista in calendario l'ultima gara, utile per laurearsi campione siciliano slalom ed assegnare gli ultimi punti utili in ogni classe. E passiamo al tennis. Weekend positivo per il tennis Saccense, nella prima giornata dei campionati invernali di Serie A e Serie D. Passione Sciacca ha vinto in entrambi i tornei. Netto il successo nel massimo torneo contro i ragusani del tennis club Ispica, primo sigillo verso l'obiettivo salvezza. Nino Armenio, Rosario Torturici, il giovane Thomas Bacchi e Mauro Tirnetta sono riusciti ad imporsi sugli avversari nei rispettivi incontri di singolare e nel doppio. La bella giornata ha favorito una grande affluenza di pubblico con appassionati di tennis e curiosi di questo sport, ma anche contentissimi giovani. Nel campionato invernale di Serie D a Cianciana, successo per 3-1 della squadra Saccense contro il locale Circolo. Successi nei singolari per Giuseppe Ruffo su Davide Perconti e di Calogero Tancredi su Salvatore Albanese, mentre Gaetano Marretta è stato superato in tre set da Liborio Curaba. Il terzo punto Saccense è stato ottenuto nel doppio, con Ruffo Tancredi che hanno superato il duo Curaba-Francesco Alfano.